Una fabbrica distrutta ma anche la vita lavorativa di 250 persone? Sicuramente sì, ieri sera ho ricevuto le prime telefonate dai delegati, non mi sarei aspettato quello che ho visto stamattina, veramente un deserto. Una fabbrica che aveva un mercato, che si stava sviluppando, che aveva riassorbito tutti i lavoratori che stavano in mobilità e c'era uno sviluppo. Avevamo fatto qualche mese fa un incontro dove sia la proprietà che la dirigenza ci avevano rassicurati per il futuro. Adesso sicuramente vediamo cosa fare, abbiamo chiesto già un incontro per il pomeriggio unitariamente con CGL e UIL e vediamo lì da farsi. Quale potrebbe essere la soluzione per garantire una sorta di stipendio a tutti questi lavoratori, molti dei quali hanno anche un mutuo in capo che devono sopportare? Sicuramente la situazione è difficile, drammatica, ma cerchiamo di gestirla, come si dice in gergo, di non perdere la plomb. Questo gruppo ha un'altra società, un altro ufficio qui vicino, vediamo quante persone potrebbero riassorbire e per il resto chiederemo sicuramente insieme agli altri colleghi la cassa integrazione ordinaria. Grazie. Grazie. Grazie.